Venezia, più di 500 telecamere. Della sicurezza, proprio oggi ho fermato un contratto con il governo che ci dà 2 milioni di euro per migliorare i sistemi di sicurezza e i sistemi di controllo audiovisivo sul territorio. Auguri di buon 1984! Auguri un buon 2010 e un pessimo 1984 a tutti! Da tramaci.org La crisi ha pestato in modo particolarmente duro proprio in questo settore, nel settore industriale e manifatturiero, alla Sava, alla Sir... Casi patologici della vita! Che sicurezza c'è nei sistemi di videosorveglianza illegali? Nessuna! Grande fratello, noi ti stiamo guardando! A loro interessa solo il controllo, vendere i loro prodotti, fottere i nostri soldi! Anche,REE! No, le ti. Quai!